Nelle acque del mare di Bering è iniziata la stagione della pesca al Gran Chidoreale. Le barche caricano le prime nasse. Il capitano Filari sa chi ce la deve mettere tutta. Ha un ordine di 20 tonnellate di granchi da portare a termine. Si affida ai riti scaramantici di un marinaio. Inizia a pescare alla grande contro ogni previsione. Il peschereccio Codia che è di nuovo in pista. Da cinque anni il capitano non pesca nelle acque del nord, ma ora è pronto a ricominciare. Il suo equipaggio però non lo aiuta e continua a commettere errori. Errori che potrebbero essere fatali. La Northwestern e la Time Bandits devono fare i conti con una grossa tempesta in arrivo. 20-40 nodi, onde di 10 metri, mettono a rischio la vita degli equipaggi. Grazie a tutti.